Per riqualificare l'immobile di strada Vallefurci a Pescara di proprietà comunale, il Comune ha impiegato 350.000 euro di fondi PNRR. L'edificio, un tempo occupato abusivamente, è stato sgomberato il 14 ottobre del 2020 e ora sarà destinato a padri separati con figli in difficoltà economica, come spiega il Sindaco Carlo Masci. Vedere un immobile che quando noi siamo arrivati era occupato ed era in condizioni vergognose con occupazioni abusive che avevano distrutto tutto e oggi vederlo rinascere con nove appartamenti a disposizione dei padri separati, cioè di coloro che in un momento della loro vita si trovano in grande difficoltà per rapporti familiari che non hanno la possibilità di continuare una vita dignitosa e noi questa possibilità gliela diamo. E quindi abbiamo riqualificato con fondi del PNRR. C'è una condivisione di impegni che portano a un grande risultato. Consegniamo l'immobile e facciamo il bando per assegnare gli alloggi. Nel giro di poche settimane questo immobile sarà totalmente occupato e quando noi siamo venuti qua qualche anno fa con i cittadini che protestavano e che erano molto preoccupati perché la vita qui era molto difficile viste le condizioni e oggi siamo molto felici che tutti quanti siano felici e il risultato ottenuto è eccezionale. La struttura così riqualificata cambia completamente vita e concretizza un obiettivo che il servizio alle politiche sociali del comune si era prefissato, come ribadisce l'assessorea del Chi sul Pizio. Questa è la situazione che ci siamo trovati quando siamo entrati, dove da delle pote emerge che si erano rubati perfino anche gli accessori elettrici, tutto divelto, non c'era più nulla. Era una denuncia da parte dei vicini che abitavano qui e non via vai in questo contesto di persone che venivano, qui dormivano e non c'era più nulla. Da lì la volontà dell'amministrazione è di riprenderci o c'è la necessità in questo momento di rifare subito il bando per evitare che venga anche occupato. All'avviso che il comune pubblicherà domani potranno rispondere i padri separati con figli minorenni affidati in via esclusiva o in affidamento condiviso. Tra i requisiti richiesti un ISEE è compreso tra 8.000 e 23.000 euro, un reddito da lavoro e l'assenza di immobili di proprietà. Andremo su una fascia in questo contesto che ha difficoltà ma che deve anche poter parcare perché è un affitto. Ricordiamo che questo è un immobile a canone concordato il cui canone varie fra i 150 euro e circa le 300 euro a seconda delle dimensioni. È un progetto nato in questo senso di dare un alloggio alle persone separate dove il proprietario di una casa è stata adatta alla moglie. Da quello che mi risulta questo esperimento sociale rappresenta un unicum. Sono pochi i comuni in Italia che hanno fatto un progetto del genere.